Nuovo appuntamento a Napoli per trovare soluzioni alla difficile mobilità dell'area sorrentina, partecipatissimo il vertice convocato dal prefetto Claudio Palomba. Da più parti è stato chiesto l'adozione di ordinanze di targhe alterne, quantomeno nei fini di settimana o comunque a partire dal periodo pasquale. Quindi si è parlato di rafforzamento delle corse da parte di EBA, delle comunicazioni via mare. Il tavolo sarà riaggiornato a febbraio, prima si terranno incontri distinti per tematiche al vertice e anche rappresentanti del Ministero del Turismo, perché, dice il prefetto, si sta ragionando sull'ipotesi di realizzare un distretto turistico della penisola sorrentina, l'incontro a quattro giorni dall'ennesima difficile giornata in circonvesuviana con un guasto che ha costretto 100 passeggeri a percorrere a piedi binari fino alla stazione di Pompei e paralizzato poi per ore la Napoli-Sorrento. Quelle difficoltà sono purtroppo dovute a un errore umano, quindi non c'entra né l'infrastruttura vecchia né i treni vecchi. Sui treni abbiamo annunciato che c'è una nuova gara che sta per partire per altri 60 treni, quindi in prospettiva abbiamo 100 treni nuovi sulla circonvesuviana. Quando i nuovi treni? I 40 già in costruzione da Stadler inizieranno ad arrivare a fine 2024, ma nel giro di 7 anni avremo 100 treni nuovi contro 60 treni vecchi di oggi. Al tavolo anche i federalberghi, Atex, l'ANAS, l'Unione Industriale e i sei sindaci della penisola tra Napoli e Salerno. La prima volta otteniamo da parte del prefetto di Napoli l'istituzione di un tavolo permanente su quello che è il problema principe del nostro territorio. È d'accordo con l'intento delle targhe alterne? Assolutamente sì, credo sia necessario.